Torniamo a parlare della tangenziale nord del capoluogo di Regione Molisano, un'opera attesa da oltre 30 anni. Si tratta del progetto di uno dei lavori più importanti e onerosi del piano, il completamento della tangenziale con il tratto mancante che collegherà Selvapiana con la zona industriale. Di 18 milioni il finanziamento regionale ricavato dal Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013. Oggi si rende noto che l'impresa Brancaccio di Napoli sia giudicata all'appalto della tangenziale nord di Campobasso, che vedrà sicuramente ricorsi amministrativi e penali per l'iter procedurale giudicato alquanto dubbio da parte della Commissione. Il progettista della ditta giudicataria, l'ingegner Gallina, segue al secondo posto la ditta Ati, Falcione Scasserra. I ricorrenti, prima di denunciare il tutto, si sono riservati la presa visione della documentazione che comporterà ovviamente l'allungamento dei tempi previsti per l'inizio dei lavori. Ricordiamo nello specifico che sono due gli svincoli intermedi previsti dal progetto preliminare approvato dalla Giunta Comunale nel luglio 2015, entrambi in contrada Calvario.